E carissimi amici e amiche salve buona giornata a tutti e benvenuti sul canale quest'oggi ho il piacere di ospitare qui il dottor Matteo Vinattieri che segue anche egli da vicino il caso di Liliana Resinovic ed è, per chi non lo conoscesse, una persona molto qualificata in materia è un sociologo ma anche un affermato criminologo ha seguito negli anni tanti casi di cronaca nera e la sua specializzazione va alle tecniche investigative e alla neurocriminologia forse non l'ho detto bene, neurocriminologia ecco, quindi ha collaborato anche ovviamente con altri social l'ho ascoltato anche sul canale dell'amico, del grande amico Angelo Marotta a cui va il mio saluto cordiale e in questo video di oggi il dottor Vinattieri essendo il primo intervento che fa sul mio canale fa un excursus, diciamo, della storia di Liliana e mette in ordine certi passaggi e certe considerazioni perché nel corso di questo anno ci si è troppo incentrati solo sulla favoletta dello Sterpin e si sono persi di vista, diciamo, alcuni elementi fondamentali quindi sostanzialmente quella di Matteo è una panoramica ragionata del caso Resinovic poi ovviamente avremo modo, secondo anche i vostri commenti di poter approfondire qualche elemento in particolare qualcosa che può sollecitare la vostra attenzione io, diciamo, questo video lo considero quasi un disperato tentativo di non lasciare questo caso all'oblio del tempo per tanto questo è tutto vi lascio al dottor Vinattieri con tanto di sigla e buon ascolto e ci aggiorniamo nei commenti ciao a tutti buonasera Nicola un saluto anche a tutti gli ascoltatori del tuo canale ti ringrazio e sono lieto e molto onorato per questa collaborazione nel caso di Liliana Resinovic troviamo tutta una serie di elementi che in qualche modo sembrano contrastare e collidere l'uno con l'altro tuttavia è necessario fare una premessa doverosa questa premessa si basa sul fatto che le indagini sono ancora oggi aperte e quindi tutti gli atti di indagine che sono stati effettuati dagli inquirenti sono coperti dal segreto pertanto non è possibile accedere e consultare il fascicolo per poter fare un'analisi più completa ed esaustiva possibile da cui poter trarre le successive conclusioni al momento possiamo quindi basarci soltanto su ciò che è stato riferito a mezzo stampa vale a dire in televisione o sui giornali dai protagonisti legati a questa vicenda su altri elementi che comunque sono apparsi e di cui si è parlato come ad esempio le conclusioni della perizia medico legale che era stata richiesta dalla procura della Repubblica di Trieste al dottor Costantinides che si è avvalso poi anche del dottor Cavalli per quanto riguarda gli aspetti radiologici dunque fatta questa premessa l'esame del caso al momento può essere soltanto di tipo parziale basandoci sugli elementi noti che sono comparsi a mezzo stampa in televisione o sui giornali dunque partendo dal giorno della scomparsa di Liliana che è stato il 14 dicembre 2021 verosimilmente nella fascia oraria tra le 8 e 22 e le 9 e 30 si arriva poi al ritrovamento del corpo privo di vita nel pomeriggio del 5 gennaio 2022 quindi partendo dal giorno della scomparsa abbiamo Liliana che telefona dal proprio cellulare all'amico Claudio Sterpin telefonata che dura circa un minuto e 50 secondi effettuata alle ore 8 e 22 dopodiché il messaggio inviato alle 9 e 30 dal fratello Sergio Resinovic sul cellulare di Liliana che non è mai stato letto e neppure visualizzato quindi verosimilmente la forchetta temporale in cui Liliana ha perso il controllo del proprio cellulare è stata quella tra le 8 e 22 e le 9 e 30 del mattino di quel 14 dicembre 2021 in base agli elementi oggettivi la scomparsa di Liliana avvenuta il 14 dicembre 2021 difficilmente può coincidere con un allontanamento volontario da casa per poter trascorrere altrove alcune giornate magari per poter riflettere su qualche decisione su qualche scelta che poteva essere effettuata da lei in quel periodo come a volte può capitare a tutti noi tutto questo perché non ha preso né il cellulare con sé né i documenti e neppure il Green Pass che all'epoca era obbligatorio per poter accedere in diversi luoghi tra cui anche i mezzi pubblici per potersi spostare da un luogo ad un altro la scomparsa quindi appare in modo poco probabile coincidente con un allontanamento volontario della signora fatta questa premessa che si basa ovviamente sugli elementi a noi noti il corpo di Liliana viene poi ritrovato privo di vita il pomeriggio del 5 gennaio 2022 e in base alle conclusioni a cui giunge la perizia medico legale la fascia temporale in cui sarebbe avvenuto il decesso è tra le 48 e le 60 ore prima del ritrovamento quindi si torna al 3 gennaio e la fascia oraria è quella tra le 5 del mattino e le 5 del pomeriggio quindi abbiamo in pratica una data del decesso difficilmente spiegabile per come è avvenuta la scomparsa della vittima questo è un elemento anomalo che appare tra quelli a noi noti ovviamente non sappiamo se negli atti di indagine la procura può avere trovato delle prove sull'esistenza in vita di Liliana nei giorni intercorsi tra il 14 dicembre e il 3 gennaio non avendo a disposizione dati che vadano in questo verso cercherò di fare delle puntualizzazioni riguardo alla scienza in particolar modo alla medicina legale puntualizzazioni che ovviamente non vengono fatte in qualità di medico legale perché non ne ho le competenze però in qualità di persona che ha studiato la tanatologia forense nel percorso di studi post-universitari effettuati e per quanto riguarda la tanatologia forense dobbiamo dire che ci sono dei fattori estrinseci che condizionano l'insorgenza e la successiva durata del rigor mortis a carico di un corpo privo di vita e la stessa cosa va detta riguardo ai fenomeni putrefattivi che si hanno poi a carico dello stesso cadavere in particolar modo uno degli elementi fondamentali dei fattori estrinseci è la temperatura minore è la temperatura e più lenti sono i processi sia del rigor mortis che quelli legati alla putrefazione in particolare mi preme citare il trattato di medicina legale teorica e pratica scritto da De Verge che era francese nel 1835 e tradotto anche in lingua italiana nel 1839 nel citato trattato di medicina legale teorica e pratica a pagina 107 dell'edizione italiana è riportato testualmente il corso della putrefazione d'estate e d'inverno varia talmente che vetta al volta una differenza d'un mese nella comparsa delle stesse fasi della putrefazione e questo è un elemento fondamentale di cui dobbiamo anche tenere conto questa opera è citata tra l'altro nelle dispense del dottor Giuseppe Carotenuto che ha tenuto un seminario in tanatologia forense durante il master in scienze forensi e criminologiche all'università degli studi di Palermo presso il dipartimento di biologia ambientale e biodiversità in data venerdì 9 novembre 2012 queste dispense sono praticamente tutte disponibili in un paper di 137 pagine che si trova anche online e appunto oltre a citare questa opera viene anche specificamente indicata la temperatura di 10 gradi al di sotto della quale i fenomeni di putrefazione sono molto rallentati in particolar modo a temperature inferiori ai 2-3 gradi centigradi i segni di putrefazioni difficilmente si manifestano quindi un'eventuale conservazione di un corpo privo di vita a temperature comprese tra i 2-3 gradi che non comporta quindi un congelamento del cadavere come era stato ipotizzato da alcuni potrebbe comunque rallentare notevolmente i processi putrefattivi e quindi poter ampliare una forchetta temporale di molto tempo infatti come detto precedentemente De Verge parla anche fino a un mese di differenza nella manifestazione delle stesse fasi su un cadavere nella stagione invernale rispetto a un cadavere nella stagione estiva ovviamente processi più rapidi di circa un mese a carico di un cadavere durante la stagione estiva questo è uno degli elementi di cui a mio avviso occorrerebbe tenere conto e magari qualche medico legale potrebbe valutarli con maggiore competenza rispetto a quella che ho io e quindi poter eventualmente verificare se un'ipotesi del genere potesse aver dato in sede di perizia medico legale delle conclusioni ovviamente valide e corrette però analoghe a quelle a cui erano giunti gli stessi periti come se il corpo fosse stato lasciato sulla scena del crimine soltanto due giorni, due giorni e mezzo prima del suo normale ritrovamento e come detto la temperatura bassa oltre a condizionare i processi potrefattivi rallenta anche notevolmente l'insorgenza e poi lo sviluppo e la risoluzione finale del rigor mortis quindi i tempi si dilatano notevolmente questo ovviamente dovrebbe essere compito di un professionista in materia medico legale dover fare tutte le verifiche del caso e quindi verificare se un'ipotesi di un intenso raffreddamento può essere compatibile o meno con un esito analogo nelle conclusioni della perizia altro elemento poi di cui dobbiamo tenere conto è l'ipotesi suicidio che viene indicata dallo stesso dottor Costantinides che ha redatto la perizia medico legale in pratica come ben sapete il corpo di Liliana è stato ritrovato quasi totalmente coperto da due sacchi neri che a loro volta poi coprivano un altro sacco al volto della povera vittima questi due sacchi neri tuttavia uno copriva la parte superiore del corpo l'altro invece gli arti inferiori e c'è da dire che come dinamica suicidiaria è anomala in quanto non sarebbe stato necessario entrare anche con le gambe all'interno di un sacco nero quindi praticamente il sacco nero che conteneva gli arti inferiori era del tutto inutile per quanto riguarda la realizzazione di un estremo ipotetico gesto autolesionista il dottor Costantinides appunto supporta questa ipotesi rifacendosi alla letteratura sui suicidi analizzati in un lungo lasso temporale in base alla quale questa modalità di suicidio sarebbe tra quelle più diffuse tuttavia a mio avviso il corpo quasi interamente occultato all'interno di due sacchi neri può essere analizzato anche sotto un altro punto di vista ovvero una manipolazione avvenuta dopo la morte della povera signora in questo caso la manipolazione non avrebbe avuto lo scopo di confondere le acque e quindi diciamo depistare i poliziotti che poi sarebbero intervenuti sulla scena del crimine facendo credere ad una causa di morte ad un movente piuttosto che un altro ecco non era quello l'intenzione della manomissione della manipolazione che c'è stata ma tecnicamente noi addetti ai lavori definiamo undoing l'occultamento parziale o totale del corpo di una persona deceduta che viene messo in atto dal responsabile della morte per creare una barriera tra sé e l'azione che ha compiuto e che ha portato alla morte della vittima in particolar in particolar modo questa manipolazione avverrebbe in modo quasi inconsapevole ed è come se venisse retta una barriera psicologica tra il soggetto responsabile e l'azione che poi ha determinato la morte della vittima in pratica è come se psicologicamente la persona che ha commesso il delitto creasse questa barriera per avere una sorta di benessere psicologico che va a contrastare con il dolore che è determinato dall'azione compiusa e tecnicamente si parla di undoing riferendosi a questo tipo di manipolazione e riguardo l'undoing è necessario citare un interessante studio fatto da ricercatori finlandesi andando nei dettagli di questa ricerca che è stata realizzata nel 2009 da Helena Akkanen Neolm Hanna Putkonen Nina Lindberg Matti Oli Tugia Rovamo Gitta Weisman Enelius intitolata Gender Differences In Finnish Homicide Offense Characteristics Notiamo che nell'analisi di tutti gli omicidi avvenuti in Finlandia tra il 1995 e il 2004 è venuto fuori che questa manipolazione volta a nascondere il corpo della vittima si è verificata in modo nettamente preponderante nei delitti commessi da mano femminile questa potrebbe essere una chiave di lettura alternativa interessante rispetto alle conclusioni della perizia medico legale che ipotizzano come probabilità più elevata quella del suicidio in particolar modo poi ci sarebbe anche un'altra serie di elementi che potrebbero inquadrare un delitto avvenuto per mano femminile e questi elementi sono l'assenza di segni evidenti di violenza che hanno cagionato la morte della vittima infatti molto spesso le donne quando compiono delitti mortali difficilmente usano evidenti segni di violenza ma tendono a usare metodi più subdoli in questo caso però a mio avviso è da escludere o comunque da lasciare sullo sfondo come ipotesi di basso rilievo quella dell'omicidio infatti l'amperizia medico-legale non ha ravvisato segni riconducibili ad un'azione omicidiaria di tipo volontario o premeditato né segni di violenza compatibili con con la morte successiva della vittima ma potrebbe essersi trattato di una morte seguita ad una omissione di soccorso di cui potrebbe essersi reso responsabile una persona o più persone con cui era venuta a trovarsi Liliana dopo la scomparsa può essere successo qualcosa e loro poi o lui o lei insomma il soggetto ignoto o i soggetti ignoti che erano in sua compagnia potrebbero non aver chiamato i soccorsi perché altrimenti magari avrebbero potuto rischiare qualche denuncia per eventuali reati commessi ai danni di Liliana precedenti all'evento in fausto questo appunto potrebbe far ipotizzare anche una morte in conseguenza di altro reato per esempio a seguito di minacce di un ricatto molto grave o anche magari a seguito di percosse lievi che però possono aver determinato in un soggetto molto sensibile quale era la signora Liliana Resinovic anche magari un malore un forte un forte squilibrio interiore che poi è culminato in un in un malore fatale questo non non sarebbe da escludere come come ipotesi a mio modo di vedere andrebbe valutata poi sia dai medici legali che dagli investigatori dagli inquirenti qualora appunto non ci fossero ulteriori elementi a supporto dei 20 giorni e ripeto e ripeto nuovamente che tutto questo ragionamento si basa sui pochi elementi che sono stati resi noti a mezzo stampa quindi non tiene conto di ciò che gli inquirenti della procura della Repubblica di Trieste potrebbero avere in mano e che sono sotto segreto e dai quali potrebbe quindi uscire un'ipotesi completamente diversa rispetto a quella finora avanzata tornando a Liliana un altro elemento da non sottovalutare è l'assenza di un mazzo di chiavi e quando è uscita di casa praticamente senza portare con sé documenti telefonino green pass carte di credito sembra che visto poi come è stato ritrovato il corpo sulla scena del crimine lei avesse con sé soltanto una copia delle chiavi come un mazzo di riserva non il proprio mazzo il proprio mazzo di chiavi non è mai stato ritrovato quindi praticamente mancavano da casa due mazzi di chiavi diversi quelli che aveva con sé Liliana che erano un mazzo di riserva e il mazzo che generalmente portava sempre con sé quando usciva il marito Sebastiano non ha mai avuto notizia da Liliana prima della sua scomparsa che avesse smarrito il mazzo di chiavi che era solita tenere quindi mancando questo mazzo sicuramente le probabilità che possa essere stato perso precedentemente sono bassissime altrimenti Liliana lo avrebbe detto al marito mentre tendono a essere decisamente maggiori le probabilità che queste chiavi mancanti siano finite nelle mani di una o più terze persone che poi potevano avere accesso all'abitazione di Liliana e quindi magari anche in linea teorica recarsi al suo interno per lasciare gli effetti personali che poi sono stati ritrovati nel pomeriggio del 14 dicembre dal marito e poi dai vicini che si recarono a casa sua e quindi qualunque soggetto ignoto poteva essere in possesso di questo mazzo di chiavi essersi recato sia nel giorno della scomparsa lasciare gli effetti personali che quindi poteva anche aver preso con sé Liliana nel momento in cui era uscita di casa non necessariamente doveva averli dimenticati ma l'accesso all'abitazione poi poteva essere possibile anche nei giorni successivi fin quando poi non è stato ritrovato il corpo di Liliana e anche nei giorni seguenti fin quando il marito non ha cambiato la serratura della porta della propria abitazione quindi c'è anche da tenere conto di questo fattore in più che a mio avviso è stato molto sottovalutato almeno dall'opinione pubblica quando ha trattato il caso mi auguro ovviamente che gli inquirenti che stanno portando avanti le indagini abbiano fatto tutte le dovute valutazioni perché questo potrebbe essere anche un elemento in più utile per giungere ad una soluzione del caso dunque ho fatto un'analisi generale basandosi più che altro sugli elementi oggettivi e concreti di cui siamo a conoscenza e ovviamente è del tutto parziale perché non avendo in mano non potendo avere accesso agli atti presenti nel fascicolo aperto in procura per sequestro di persona a carico di ignoti non è possibile poter dare una probabilità una probabilità specifica sull'ipotesi avanzata affinché questa possa essere realistica o meno quindi è un'ipotesi del tutto parziale soggetta ad un elevato grado di margine di errore per quanto riguarda gli altri aspetti che sono noti di questa vicenda direi se anche Nicola fosse d'accordo di fare dei successivi approfondimenti per valutare meglio ogni singolo elemento direi che l'inizio si debba basare l'inizio dell'analisi del caso su questi elementi che sono a mio avviso quelli basilari per poter iniziare a vagliare eventuali piste investigativi che vadano in una in una direzione piuttosto che un'altra ricapitolando tenderei ad escludere o quantomeno a mantenere come ipotesi minoritaria quella del suicidio tenderei ad escludere l'omicidio volontario e l'omicidio premeritato tenderei invece a valorizzare l'ipotesi di una morte in conseguenza di altro reato o al più di un omicidio preterintenzionale qualora la povera Liliana avesse subito delle percosse a seguito delle quali è andata incontro al malore che poi ne ha determinato la morte quindi il quadro attuale sulla base degli elementi finora noti è questo dal mio punto di vista per il resto lascio la linea a Nicola che saluto nuovamente in modo molto caloroso e ringrazio altrettanto vivamente perché sono onorato di collaborare con lui sul suo canale un saluto anche a tutti gli ascoltatori del canale e spero di poterci risentire presto